Un'estate diversa per i ragazzi con i centri estivi proposti dai comuni, un servizio che permette di conciliare i tempi casa lavoro dei genitori e che offre ai piccoli l'opportunità di conoscere meglio il territorio circostante e a non buttare via il tempo. Questi gli obiettivi del comune di Caviglia che anche per questo anno ha organizzato centri estivi di tutto rispetto per i ragazzi che devono trascorrere l'estate a casa, sport, laboratori, escursioni e quant'altro serva per socializzare e scoprire il mondo intorno a sé. L'offerta è sempre la stessa, cioè quantomeno la griglia di base comprende sempre gli sport tradizionali come il tennis, il golf, il mini golf, l'equitazione. Quest'anno ci sarà anche la palla a volo e si svolgerà qui a Caviglia e poi un'attività che serve molto a valorizzare il nostro territorio è il centro estivo che si svolge al parco in cui appunto sono programmate una serie di attività che tengono impiegati i ragazzi tutto il giorno. Per avere maggiori dettagli basta informarsi all'ufficio scuola e pubblica istruzione del comune. Ufficio pubblica istruzione e poi per scegliere il corso che più si confà alle esigenze è possibile visionare la pagina facebook del comune e il sito istituzionale in cui ci sono tutte le informazioni.